1 ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della material energy sono sempre compagnia di ulisse e la fuga non ci sto io a rifugato allora nello scorso episodio abbiamo fatto quelle due tre queste zona perché stai per questo e oggi andremo a fare il seguito esatto dovremmo scendere in giù nel che magari non si si ma aspetta qualcuno che stava io vorrei portarmi qualche spada per combattere voli nella giungla perché non vorrei che ci fosse tipo il mondo c'è cibo che dovrebbero essere dei cocomeri che stanno alle me scrivi con me no cocomeri non esiste si effettivamente cocomber cocomber andiamo allora deve andare giù ragazzi qualcuno ha visto la mia armatura station aia perché qualcuno mette li concchia di merda Hollywood combatte sinceramente la mia abbia camping piano rom Neividi cheuchenne muori bestimmte lavoravo il modo il mondo c'è per morire ma libero oh m asia pomeriggino se non c'erano scuola netto ma anche il suo figlio e però questo danno un sacco di roba prendere e voglia d'anno un sacco di carbonio d'ossigeno esatto sono da danno anche qualcosa per questo guardando se c'è oggi abbiamo dimenticato managgia esagonato risotto però la gila non c'è quindi non sa mai è scritto nella queste che sta nel fiume ma qui c'è un cavolo dice nel fiume che si trova che si prosciuga al vulcano ma qui sostanzialmente io l'ho già presa qua è quello che non capisco ma allora non so se qui sotto c'è qualcos'altro dici che ci mettiamo a scavare come pazzi e troviamo qualcosa ma questa che cos'è? è il limestone? si è l'imestone anch'io ho detto solo dirt ho trovato un buco e io ho pure rotto il piccone ho trovato uno scheletro sto morendo sto morendo sali Ulisse sali sali a morire dove sei? aia aia salve ah ciao Ulisse stavi morendo soffocato? esatto no comunque qua non c'è nulla quindi boh non saprei ce la faccio saltare? o ce la faccio? oh non lo so argila ah eccola qua sta nascosta stavo nascosta mi ha trovato un pezzo un po' di pezzi buona quant'è? quant'è? ce ne ho otto però in teoria ne avevo altre dentro le me ora non ricordo quante ce ne è una quattro eccola qua si sta qui sotto stanno quindi ah e spacca tutto spacca tutto stanno bloccate qui sotto stavo intuito in effetti spazca 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 perché ne parlava di questo fiume però pensavo fosse sopra stavo veramente sotto non c'è nulla che sta lì no parcolla ma non molla cerca 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 qua 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 niente proprio trova? si quanta ne hai? ne ho 16 aspetta che vado a controllare quella a casa quanto ne abbiamo? oh ne abbiamo una quarantina a casa tipo 36 no mi sa di più mi sa di più aspetta aspetta ora li ha troviamo scava 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 zola vai sono un pazzo minatore peccato che si metterà crepo ma che crepo un arco si potrebbe essere un'idea per un arco e viene qua che li ha te ne andavo uno io no non mi voglio il tuo arco c'ho due utilizzi però vabbè sono due utilizzi guardate no 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 bello ok eh clay ne abbiamo 44 16 mila sono 60 non è 40 ho sbaglio ok io ce n'ho 4 wow ma sbaglio ne esce di meno del solito no 4 ne esce per ogni blocco e standard quindi perché c'è 63 di razzola vabbè non so ne so ne so ne andiamo ma sembra sia finita sembra eh io non vorrei che anche in questi lati c'è altra roba tipo no qualche moolstone ci sarebbe da scavare tutto il bioma un giorno ci mettiamo ci facciamo qui spacchiamo tutto eh sì però anche prendo le zucche per il momento che possono essere utili facciamo anche le cose buone non mangiare vabbè dobbiamo prendere i comparitori e rimasti sotto hai fatto il buco qua sono comparitori ci saranno in effetti si o un agio piangato ragno del deserto mi sta tipo denaro 2 mi è presente ragno del deserto si mamma aspetta così mi sembra più poco ma tipo questi 27.500 pistoni che stanno qui sotto ehm possiamo spaccarli sai possiamo prendersi eh non ci viene qualcosa devi un po' piston eh uno ci servirà in teoria perché si dovrebbe prendere l'uovo del land il pistone sedici ferro come sedici ferro vabbè un lingotto cosa stai dicendo cosa pensavi 16 lingotti ferro esagerai ok ok non avrebbe senso effettivamente sì da questo punto ci facevo fare i piccoli solani ce lo facevo con la sua mente sto scendendo comunque preso il comparitor io dovrei aver preso il comparitor sì ce l'abbiamo ok potete clamare il reward clamor world oddio quanta roba ci da doppio zainetto pure zainetto OP vediamo un po' oh greeter sono oh iron crusher iron fornace mi sembra che ci servono per due missioni per una missione ci servono wow 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 oh 64 gunpowder ora ho trovato io vediamo io cosa trovo eh la redstone eh e mi ha dato anche 40 blocchi di redstone oh questo funziona sono bello la redstone 30 blocchi di redstone prova a mettere la redstone dentro è dentro uno è il magic stuffed stuffed si vabbè che ho detto non va perché va fluidificata con la thermal eh si eh vabbè oddio ma cosa sono tiranti ah io vorrei far notare l'acqua che cade dal soffitto anni che mi stanno stordendo ma no sono tornata che me l'ho abbassato il volume l'ho abbassato ragazzi l'ho abbassato pure un po' beh io sono diventato OP eh sappiate ma io ce l'ho abbassato non so oh che so mio dio quanti la mia spada la mia spada porcacolo l'ho lanciata sono stupido come l'hai lanciata l'ho lanciata c'era un'altra io aspetta ah ce l'hai ah ce l'hai ahia è lì sotto arrivo lì sotto sa lava sa lava ci sto ci sto picchia picchia ma che lava mi ha colpito mi ha prendo quella spada ahia mi ha ricolpito ahia c'ho le torce in caso quanti le torce ho lì dentro infatti mi è salta la spada ahia come hai rotto la spada no mi ha fatto cadere stronzo ragazzi meglio meglio ahia ahia pure mi forse no oh no non è meglio qua sento zombie no come senti gli zombie sento gli zombie oh cristo un altro spider qualcuno vuole un magic staff ulisse c'è il mondo lì dentro sa lo so è mercato che so qui sotto so dove sei guarda dove sei qua sopra zula zula vedi qui e sbrigati aspetta mi devo mandare la corazzata sto coso magari allora zula appena arrivi prendi un piccone spacca con i generatori e porta li via da là dai scendi e li ho cazzati come un ebbe detto stai so caduto anch'io eh scendi giù tanto ormai a questo punto eh ormai si allora ok so terraro c'è una spada per caso un in più si vai tieni ok ne ho anche un'altra se serve allora vieni qua nevo prendi il cocco beam se devo prendere per la missione si sto cercando e le vasi stringhe va che magari le buttiamo anche fa schifo affetta 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 però non so sticamente dove sono i cocco beam ragni che si succedano a me mi preoccupano i ragni effettivamente eh ma ce ne sono davvero troppi secondo me c'è qualche spawning ma non so ecco lì ho trovato il cacao cacao uilissi dove sei eh aspetta io sono andato ah sono dietro ti vedo ti vedo so qui c'è del cacao lì ah sta agli angoli uilissi sta agli angoli agli angoli delle stanze ok se ti vengo dietro aspetta quattacchi sta ragno e qua che c'è porto agli angoli agli angoli in fondo in fondo ecco perché non lo vedi dai c'è il mondo dov'è dove scusa è più grande la stanza sulle cime degli alberi sì 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 io non vedo niente ce n'è una torcia si porta porta e guarda quanto generale quanto pesare ah ok stanno eh non li posso mettere qua sopra le torce porcacca lo sai che noi dobbiamo bruciarla tutta questa foresta esatto perché sostanzialmente c'è una missione che dice brucia tutto ma è proprio questa qui del cacao più che altro mo la prende la leggo quanto ne ha eh sa però prendiamo qualche legna di questo eh mi sembra utile di cosa almeno possiamo fare il cacao possiamo metterci sopra sì anche ma più che altro sarebbe meglio prendere un sapling eh no vabbè prendo la legna vabbè sì prendo anche il sapling dovremmo avercelo quello di jungle no in teoria infatti ci ce l'abbiamo quello di ah ce l'abbiamo allora posto cioè te lo direi io se non ci avrei questo scheletro che mi continua la vita eh io ho metto un attimo un paio di torce tanto poi comunque bruciamo tutto dove cacchio sono finito Ulisse io ci sto capendo quanti ne hai comunque di tantissimi un miliardo già finita la quest ah è già finita sì ok allora però non abbiamo un problema attacco di ragni attacco di ragni sono morto parliamo noi c'ho l'attacco dei creeper arrivo arrivo dove sei dove sei sono ancora vivo meno male mi hanno fatto un assalto impressionante oh porca cacca sono morto di nuovo tu l'hai morto dal creeper ebbene da dirti il creep non è che dici che stanno tirando un creep normale no il creeper mi dò eh sì mi stanno buttando dentro la terra è normale Ulisse c'è un demone dove? è tutto infugato è viola è cattivo oh andiamo insieme vai spaccalo no c'è questo creeper creeper di terra creeper di terra creeper di terra oh mamma mia pensavo quasi più forte sinceramente anche io pensavo avrei piaciutato ok sì voi non ci avete l'arma d'ora io non ce l'ho ma ti torniamo su tipo per il momento guarda qua la legna che l'ha sposto con la 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 che stai facendo tu che sei ti diverti no no altro ah ok adesso guardate Ulisse non c'è nulla da ridere è una figata mazzesca sol come stai messo io direi prendiamo tutte le bollestring saliamo su e poi buciamo tutto non sarebbe una cattiva idea la questione è claimiamo la quest eh poi bruciamo e bruciamo tutto adesso esatto aspetta aspetta prendo lo zainetto io prendo ma di tanto bruciamo tutto non è unicato cos'è stato lo so era un rumore stranissimo io prendo le stringhe non è unicato allora aspetta un secondo facciamo la quest talve si claimiamo prendo la reward bag io prendo i soldi non la fa claimare buona no eh perché devi scegliere cosa prendere ho scelto l'ho fatto non va a me mi ha fatto la reward ah l'inventario Ulisse l'inventario Ulisse troppa roba eh c'è tutto libero ti sembra a te time machine 3 che è la time machine 3 ah ma c'è ragione ti sembra a te butta tutto io sto buttando tutto per terra eh ma questa è proprio bugata l'altra va bene allora a posto ragazzi io vorrei di niente ma dobbiamo andarcene molto velocemente perché Ulisse c'è dato tutto andiamo cos'è no aspetta aspetta oh piano 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 questo è serio vero si andiamo tu ma se io butto sta pozione che fa splash potion of fire resistance no è la tua fire resistance eh ma ce l'ho a quanto dura tre minuti e io bruciò tutto siamo immuni al fuoco vuoi salire eh vabbè sto bruciando brucia no cosa faccio sai cosa faccio mo brucio sti ranni di merda vada mo ranni di merda bruciate assata la cattiveria morite pronti oh quanto sono non vedo niente stanno tutti bruciando sti stronti cosa è esploso che sta facendo io che sto combattendo probabilmente guarda quanto l'anca raga io sono raga sei soffocato in un muro oh mio dio raga io non so cosa è successo noi si non mi dica era un creeper di terra raga 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 assurdo ragazzi non morì di niente per me c'è un lag assurdo eh ti era il fuoco eh sì porca vacca eh ma per te bruciando giù eh io sto è venuto a bruciare però son morto quindi eh io vorrei lasciare un po' di roba c'è a caso magari io sto accendendo tutto ancora qui per di terra a mai questo punto mi metto la place la space motion tanto sei minuti no ma poi ce ne tre quindi scella proprio me l'ha già buttata brucia stronzo brucia ma e quindi io dove sono morto scusatemi qualcosa è esploso sol bravo guarda dove cacchio sono morto brucia brucia bruciate alberi schifo creeper brucia brucia scusami zula dove è la mia tomba sono morto lì ce lo so come da lui come lo sai no la tomba non brucia eh io so solo che sei esploso per un creeper eh ma non c'è la mia tomba chi vuole la manata mare raga aspetta vabbè dimmi tu dove sono io c'è la terra ah probabilmente ah sta qua sta qua dove? ah ok togli il tigre ah sto bruciando è morto è morto bruciato morto è una buzione eh lo ho già preso vabbè sì ciao core sto bruciando come se ci fosse un domani ah madonna se riesce a venire da qua sta arrivando sta arrivando sto correndo come uno scemo vai ti metto la dort qua al lato le pasta dort ma continuate a bruciare tutta la stanza e mettete le torce per bruciare io so facendo 25 fps non per dirvelo cioè con tutto quel fuoco la cattiveria ah ma ora sta aumentando un po' ma sta bruciando tutto questa camera sono quasi arrivato io ho finito tutto aspetta io porti della cobblestone cosa sto già sto acquisto mannaggia porti l'acciarino magari veloce dentro no a me mi serve la cobblestone c'è la cobblestone ok a posto ho l'anerete ho un'idea più semplice per l'acciarino in effetti avete per caso un bacio di cobblestone copione anch'io sto facendo la leva esatto perché devi fare charge è nulla è nulla tu hai un piccone vabbè l'ho fatto allora posso bruciare o ce la fai tu guarda per i minuti eh pozione splash resistenza ce l'ho vai vai brucia 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 oddio questo è sto blocco ah punto di scarmo brucia brucia tutto ah qui sotto c'è la cobblestone oddio dovremmo scavare dovremmo scavare questo è l'episodio dei piromani oh guarda che bello guarda come brucio no ho bruciato un sapling scusa non volevo no ho pensato di spazer al contrario brucia brucia ma più che altro c'è scritto che una volta che abbiamo bruciato tutto troveremo la via più chiara la via per cosa eh non lo so da qualche parte c'è la stone sotto c'è la stone eh eh che c'è un dispenser che io e me l'ho perso eh insomma magari tu rimani fermo lì che magari non moriamo tra tipo due minuti piazza il dispenser aspetta vado a trovare la via per la libertà vado a di cox aspetta vai dai purissimo lo sai che ci vuole una settimana per tutto oh guarda che bello sto sto lanciando le palle tu dove siete stiamo lanciando le palle ecco vi vedo perché lanciate le palle perché è bello lanciare le palle lasciata tu magari però non buttala sembra sussolato eh magari giro ma non fanno danno ma se mettiamo la lava che in teoria dovrebbe essere la cosa migliore si magari non colpita a me lì c'è la tomba lì c'è la tomba la tua no no l'ho preso tutto io ma dove c'è quella palla sulla parte ma è un fake eh no eh perché non tu non la vedi no non la vedo no eh aspetta ora in teoria dobbiamo bruciare tutto ma io direi rompiamo sta parte perché più o meno la maggior parte l'abbiamo levata scusatemi e che cos'è questo quale? questo chi l'ha apprezzato? no no io bravo no zola ma vabbè però vedi qua sotto c'è la stone avevo trovato una tecnologia aliena che avevamo vinto la serie invece no si ti piacerebbe no però c'è della stone qua in effetti quindi non saprei c'è stone però non non ti capisci ho un minuto di fare resta senza ancora questo in che posso ciao creeper di merda brucia non vedo nulla che indichi una cosa magari c'è una porta sulle pareti che ne so no le pareti non penso oh qua qua Humans UX lo sai cosa è qua è qua vedi vedi vedete mi vedete mi vedete no Aldo ecco ti hai trovato qui qua guarda aspetta e tu che cacchietto cosmo Ma fatemi vedere Ma che stai dicendo? Che cos'è quella cosa? Io so che cos'è invece Oh mio zio è un computer È tutto pieno Di nulla Appunto Ce lo votiamo? Ce lo votiamo Ce lo votiamo Sì aspetta come ce lo portiamo scuso Oh guarda le crafting CPU Oh c'è qualcosa Sto guardando tutti i dischi Sì li sto guardando tutti per uno Ma aspetta L'ho lasciata sopra Altri dischi pieni Altra roba Questo è strapieno Prendi tutto Ora E come c'è l'inventario pieno? Dobbiamo fare dei zanetti Ce l'abbiamo dei zanetti No però li possiamo anche Cattare Andiamo andiamo Aspetta prendo questi Questi ci servono Altri dischi Parecchi dischi sono pieni Buono 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 Capisco la via libera Cosa intendeva Hai visto che diceva Orca vacca Via libera Oh mio dio Però io voglio bruciare tutto Eh non partire Ma sento un po' Poi di ragni Eh no lasciatare sopra Eh dobbiamo andare sopra Quella è la parte brutta Un secondo Questa è la vibrant Vibrant Quartz Class Oh anche Oh possiamo rompere Ti dico proprio fermate Ce lo dà Ce lo dà Oh buono 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 un sacco di cose Possiamo farci I cavi Possiamo farci Ma non solo Oh chi è che mi picchia Oh chi è che mi chiede Che chiede razza La smutiamo sta Oh cavolo Io me la porto a casa È mio Cioè questa è casa mia Anzi io mi stabilisco qua dentro Ma è vero Se li abbiamo tutto Ci trasformiamo qui dentro Eh ma poi come fai Se dobbiamo cambiare Eh appunto Vabbè allora Vi metto un po' di torce qua Perché ho arrivato Sofie Brand Grass Che tipo fa anche da torcia Infatti non si vede più niente Vabbè sto mettendo le torce dai Oddio bellissimo Oddio Le cose fantastiche Che troviamo qua dentro Vabbè ma che ne dici Se salutiamo qui E nel prossimo video Andiamo a raccogliere tutti i cd Che vediamo cosa c'è dentro Eh giù sta salendo Eh solo sta già salendo Solo è una persona orrenda Stavo portando giù Corrente per quello Secondo me c'è qualcosa altro Non vorrei dire nulla Però secondo me c'è qualcosa altro Aspettiamo che porto giù La batteria Inizieremo tutto ragazzi Tranquilli Allora Per questo video è tutto Buon salutiamo Dov'è Voglio portare la batteria No no sono qui Zulissi Ah la batteria Eh sì ma sono morto Eh bravo Dai dai Collega la batteria Vieni Ma magari facciamo delle scale Fai mi portare le scale da sotto Ne prendiamo quelle Non vuole di fare le altre Zola Zola stai arrivando O è morto Morto È morto Vabbè Ragazzi nel prossimo video Andremo ad attaccare questa batteria E vedremo cosa c'è Esatto Quindi Ciao ciao Quindi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti Ciao ciao Guardate di mettere like Sennò siete persone orrende Orrende Tutte persone Ok